Ami il vino, ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com Un saluto agli amici di Wine Soundtrack, ben trovati. L'ospite di oggi non è un produttore, ma il regista che li rende omaggio, il direttore generale di Verona Fiere, Giovanni Mantovani. Ben trovato, direttore. Salve a tutti, buongiorno. Dunque, quante sono le edizioni alla regia del Vinitaly? Caspita, bella domanda. Dal 1986, basta fare il conto, quindi sono tante, troppe. Quali sono i numeri oggi del Vinitaly? Sono numeri molto belli, perché parliamo di oltre 4.500 espositori, i visitatori sono oltre 130.000, ma soprattutto mi pare molto importante il fatto che abbiamo quasi 50.000 buyer che provengono da tutto il mondo e credo che questa sia un po' la chiave del successo di Vinitaly. Punto di osservazione privilegiato, proprio una delle più coinvolgenti dinamiche realtà del settore primario. Io ho letto che il 22-23 settembre del 1967 erano due gli stand presenti alle giornate del vino, quindi quella è la data, diciamo, il primo vagito del Vinitaly. E quindi quasi mezzo secolo di grande successo e di storie. Quali sono, diciamo, le annate migliori che lei ricorda? Beh, senz'altro ricordo come una bellissima annata la prima che io ho fatto, proprio quella dell'86, perché mi sono immerso con una guida straordinaria che era Angelo Betti, che è stato un po' l'ideatore del Vinitaly, e mi sono immerso una intera giornata con lui fra questi produttori che io non conoscevo e che mi hanno fatto scoprire un mondo che avevo, come dire, assaporato prima in altre occasioni, ma vedere dal vivo personaggi come Giacomo Bologna, ricordo lui in particolare, perché era in quell'epoca anche, come dire, una delle figure più innovative nel settore, fu davvero una bella, un bel ricordo, e lo ricordo come una straordinaria annata per questo motivo, perché è stata anche la mia prima annata. Direi poi assolutamente il Vinitaly del cinquantesimo, è stato un Vinitaly che ha segnato anche un cambio di passo nell'organizzazione della manifestazione, ci eravamo dati questo obiettivo, di rendere il Vinitaly più business oriented, come si usa dire, abbiamo aperto la stagione del Vinitaly in the city, quindi questa capacità di creare due percorsi, uno per i produttori, per i buyer, per gli interlocutori del trade sulla manifestazione Vinitaly e Vinitaly in the city dedicata al consumer, quindi è stato, come dire, anche un Vinitaly particolare per la formula che si è creata, molto nuova, molto innovativa, che ha raggiunto l'obiettivo che volevamo raggiungere, che era quello di considerare queste due platee in maniera differenziata e corretta. E direi anche straordinaria, perché è stata l'edizione alla quale abbiamo avuto la presenza del Capo dello Stato all'inaugurazione, che ha segnato in qualche modo, in maniera molto forte e molto precisa, il fatto che Vinitaly rappresenta il punto di riferimento per questo settore a livello nazionale e internazionale. E il Vinitaly del futuro? Beh, il Vinitaly del futuro credo che guardi, lo stiamo costruendo soprattutto a una capacità completamente nuova che stiamo anche come azienda imparando, che è quella che fino ad oggi abbiamo studiato molto, come dire, i produttori, gli espositori, abbiamo guardato con grande attenzione alle loro aspettative, alle loro esigenze. Oggi dobbiamo lavorare esattamente sul contrario, nel senso che a tutto il nostro team oggi è richiesto di diventare più grandi esperti del mercato, conoscere in dettaglio i mercati, perché poi parliamo di mercati, e certamente il Vinitaly del futuro, quindi è un Vinitaly, sarà un Vinitaly che parlerà le lingue dei mercati del mondo, e conoscendoli a fondo e portando a Verona tutti quegli interlocutori che proprio da questa attività di conoscenza dei mercati diventeranno sempre di più i grandi, direi, amici del vino italiano e i grandi anche evangelisti, per usare un'espressione forte, del vino italiano nel mondo. Senta, adesso entriamo nel cuore della nostra intervista. Il suo primo ricordo legato al vino. Caspita, torniamo davvero a molto in là col tempo, perché io cominciai a conoscere il vino andando in campagna insieme con mio nonno, quindi credo di aver imparato quasi tutto da mio nonno sul vino, come si potavano le viti, come si innestavano, come si teneva il vigneto, come si faceva la vendemmia, come si produceva in cantina, come si preparava la cantina. Gli ho dato tanto e spesso, e anche molto volentieri, era una cosa molto felice per me. Quindi un bellissimo ricordo, tanto tempo dedicato a questa attività col nonno che mi ha insegnato sul vino quasi tutto, tutti i segreti, diciamo. Quindi il vino rappresenta moltissimo per lei, ma se dovesse sintetizzare proprio in due parole, che cosa rappresenta? Il vino è? Beh, il vino è un pezzo fondamentale della cultura di noi italiani, diciamo che per la mia esperienza, quando io mi sito a tavola c'è l'acqua e c'è il vino, sono due elementi quasi essenziali. E non vanno mai mescolati? Tendenzialmente non vanno mai mescolati, qualcuno li mescola, però tendenzialmente non andrebbero mescolati. Il termine del vocabolario enologico che la affascina di più? Mi affascina molto l'espressione che si usa spesso, che è invecchiamento, che normalmente la pensiamo come una parola quasi negativa nella vita delle persone, invece nella vita del vino è vissuta come una parola che esprime qualcosa di valore, di cultura, di storia, di qualità, anche di grande qualità. Questo gioco di parole fra la vita dell'uomo e la vita del vino, però poi è diventato un gioco che spesso ce la giochiamo, come dire, anche noi, dicendo che poi insomma nel vino, il vino vecchio è anche sinonimo di qualità, è per l'uomo di saggezza, di cultura, di tradizione, quindi mi piace molto questa espressione. L'ultimo viaggio che ha fatto e il vino che ha bevuto? L'ultimo viaggio ero a Parigi, quindi ero di là delle Alpi, come si usa dire, dai cugini, e ho bevuto un vino, uno Chardonnay de la Rhone, quindi sono stato anche contento di assaggiare questo vino di una regione che non conoscevo affatto, che è poco conosciuta ancora nel mondo e che secondo me sarà una delle regioni invece emergenti per il futuro. Un pregio e un difetto del suo lavoro? Il pregio straordinario è che offre un'opportunità unica di conoscere persone, soprattutto persone, si conoscono tantissime persone, imprenditori fantastici, comunicatori fantastici, a livello nazionale, internazionale, è un mondo di relazioni che veramente danno, danno tanto. Il difetto di questo lavoro è che è talmente avvolgente che rischia di diventare un po', come dire, onnicomprensivo e quindi di lasciare poco spazio, poi la vita personale è quasi una battaglia. E quando? È un lavoro molto affascinante, quindi i lavori affascinanti hanno questo rischio di essere assorbenti. E quando ci sono questi piccoli ritagli di tempo, come spende il suo tempo libero? Nonostante viaggi molto, mi piace ancora viaggiare. Quindi quando ho del tempo libero, cerco un po' di dedicare del tempo a conoscere il paese nel quale mi capita purtroppo di viaggiare anche meno, perché è un po' l'Italia, è tutta da scoprire ancora e ogni volta che faccio un viaggio vedo che è una realtà quasi grande come il mondo da scoprire, nel senso che ci sono più cose in Italia da scoprire che non in tutto il mondo. Questa è una cosa che mi sorprende sempre. Quindi mi piace ancora viaggiare, mi piace conoscere, anche approfittare di un viaggio per conoscere momenti di cultura del nostro paese, la gastronomia, perché no, ha qualche vino, certamente anche se venite e ce li porta tutti in casa. Poi mi piace leggere, leggo per quanto posso il più possibile, sia libri di storia, sono appassionato di storie, e qualche libro di cultura, anche qualche bel romanzo, perché no. E poi dedico parecchio tempo alla bicicletta, che è un po' la mia passione, come dire, più strutturata, e almeno una giornata alla settimana cerco di lasciarla allo sport, quindi proprio la bicicletta. E' anche l'occasione per girare il nostro territorio, per vedere in un modo diverso spazi e orizzonti che spesso scorriamo come un film troppo rapido. Ha mai pensato di fare il produttore di vino? E se sì, dove? Mai, in realtà ci ho pensato più volte, in tante fasi della vita, e l'idea che mi aveva affascinato di più, perché è un territorio che mi piace molto, è stata la Franciacorta, e poi non si è fatto, e quindi è andata bene così. Una figura che l'ha ispirata e che tuttora è per lei un riferimento importante nel suo lavoro? Beh, nel mio lavoro direi che sono state parecchie le figure che mi hanno ispirato. Ho citato prima Angelo Betti per la capacità creativa e l'effervescenza nel generare nuove idee. Potrei citare anche di converso Sergio Masiero, che è stato meno conosciuto, però è stato certamente un protagonista della Fiera di Verona, che aveva la capacità opposta, cioè quella di dare grande ordine, grande organizzazione, grande struttura a quello che veniva fatto. Spero di aver interpretato al meglio tutte e due. Poi, se parliamo del mondo vinicolo, tanti protagonisti del mondo del vino sono stati per me frutto di spunti, di riflessioni, anche di grande saggezza. Se posso citarne uno fra tutti, certamente la persona che negli ultimi 15-20 anni mi ha dato di più è stato Angelo Gaia, che è una persona che certamente conosce questo settore in maniera straordinaria. È un piemontese, quindi con i pregi e i difetti dei piemontesi, che pensano di essere bravissimi, ma poi anche loro hanno i loro limiti e li conosciamo, però sono poi persone straordinarie, vere, che dicono la verità in maniera molto spesso rapida e anche cruda per quello che è. Il suo mantra? Il mio mantra? Direi che è un mantra un po' sano, che quando ti dicono che non c'è più tempo è meglio aspettare ancora un attimo e quindi per avere un attimo ancora in più di riflessione. ed è una cosa che ho imparato in tutta la mia vita, quando tutti ti stringono per dire che bisogna chiudere, bisogna definire, bisogna... non c'è più tempo, è meglio prenderne ancora un po' e quel tempo in più ti aiuta a capire che magari c'era anche una prospettiva diversa. E' quello che forse ho sentito qualche volta dire anche dai grandi vignaioli, che non bisogna avere fretta di vendemmiare, ad esempio. Beh, se guardiamo la vendemmia di quest'anno non è un esempio incredibile e credo che chi ha saputo come dire, avere pazienza avrà raccolto certamente di più di chi ha avuto un po' fretta e anche magari un po' timore che fosse finito il tempo e che l'autunno fosse talmente tragico da peggiorare una stagione complicata. A proposito di vendemmia, quindi di annata, cambiamento climatico, tema attualissimo e molto dibattuto. Qual è il suo pensiero in merito? E' che dobbiamo farsi conti, assolutamente, dovranno farsi conti i produttori. Vedo e leggo che si stanno attrezzando, si stanno attrezzando tanto sia nella selezione dei vitigni sia utilizzando nuove tecniche di impianto perché sarà una chiave. Dobbiamo avere una grande attenzione all'ambiente. Ho visto aziende che hanno ricreato come dire, ambienti dove l'ecosistema è stato in qualche modo ripristinato, rigenerato e questo aiuta perché avere un grande spazio a vignetto dove vengono introdotte anche però altre culture, altri alberi, altre culture dove viene rintrodotta l'acqua, dove viene rintrodotta sì ecco parlare proprio di un ecosistema equilibrato certamente aiuta a gestire meglio anche le situazioni di estreme condizioni che spesso il clima oggi ci pone davanti. Tanto dovrà essere fatto nel lavoro in vigna quindi il lavoro in vigna diventerà molto più importante probabilmente di quanto pensiamo. Il Made in Italy è associato a valori come bellezza, creatività, lusso e cultura. Dove si colloca il vino? Beh, certamente creatività. Il vino italiano ha saputo partire da un grande disastro che è stato un'epoca che tutti ricordiamo tragicamente di un grande default d'immagine e da lì siamo ripartiti con una forte creatività a rigenerare il vino italiano. Certamente poi c'è una forte relazione con il tema della cultura. Credo che oggi il vino italiano rappresenti la cultura italiana in modo straordinario. e siamo diventati anche un sinonimo di qualità al mondo. Credo che il vino italiano abbia raggiunto una rispettabilità e un rispetto assoluto da parte di tutto dei mercati, di chi valuta i vini, delle grandi riviste che danno i rating. Insomma, abbiamo fatto un bel percorso. Credo che queste siano un po' le tre caratteristiche del Made in Italy che il vino italiano ha saputo. La bellezza è insita nel fatto che ha cambiato tanti territori, i territori molto più belli e questo va scritto anche nella storia del vino. Tanti show televisivi dedicati alla gastronomia ma pochissimi con protagonista al vino. Perché, secondo lei? Temo che ci sia un problema come dire che i protagonisti del vino sono talmente tanti che ogni volta che si pone il problema di sedere attorno a un tavolo qualcuno per fare un talk show, per fare una discussione e quindi immagino ancora più complicato farne uno spettacolo diventa difficilissimo capire chi sedere a quel tavolo perché ne contiamo veramente tanti di eccellenti di bravi e sembra sempre di fare un torto a qualcuno e poi forse c'è anche una tendenza che è tipica del produttore vinicolo che ha imparato a produrre bene ha imparato a fare grande qualità ancora poco ha imparato a comunicare e questo è forse la ragione un po' più vera nel senso che c'è un nodo che riguarda la capacità di comunicare che non abbiamo ancora approfondito a sufficienza ci sono invece nella storia dei film molto belli dedicati al vino e quale riviene in mente beh sicuramente quello che abbiamo premiato a Vinitaly come un emblema della un testimonia del vino italiano del vino scusate a livello internazionale Sideways che è stato un film di successo e anche un bel testimonia della storia del vino non in Italia in questo caso però certamente è un emblema di come il vino sia anche dentro la struttura della storia delle persone il suo rapporto con lo smartphone odio o amore ah no io sono un appassionato di smartphone quindi non c'è dubbio sono un grande utilizzatore dello smartphone e il rapporto invece con i social media i social mi piacciono molto cerco di utilizzarli per quanto mi è possibile sono una fonte anche di di conoscenza di apprendimento di trovo molto interessanti ecco al di là di tutto quello che si può dire di tutti i problemi che poi sono connessi a questo modo di comunicare però lo trovo un modo di comunicare fantastico che crescerà ancora di più un piatto della tradizione del territorio cui è legato e l'abbinamento con un vino dovendo scegliere fra tanti piatti quello che mi piace di più in assoluto anche perché è una cosa sulla quale mi cimento anche personalmente è il risotto con gli asparagi asparagi rigurosamente di Verona della Mambrotta quindi la denominazione protetta asparagi bianchi e il vino a questo punto non può che essere un suave via il vino quindi per lei è bianco rosso o rosè non avrei dubbi che poi il vino in realtà è bianco rosso rosè e anche tante altre sfumature che sono meno definibili e sono tutte molto belle chiude un accordo importantissimo con quale bottiglia festeggia un grande metodo classico italiano senza dubbio una bottiglia invece per brindare il passato una per il presente e una per il futuro beh per brindare il passato andrei a riscoprire qualche anche in cantina da me qualche vecchia annata che però è ancora un'annata che esprime tanto che esprime cultura che esprime storia che esprime anche un gusto perché poi un vino invecchiato tanto rischia di essere anche più buono di quelli giovani presente mi viene in mente prenderei senz'altro un vino fresco dell'Etna per esempio che che ci dà questa brillantezza questa novità anche quindi presente è sempre una sorpresa e quindi lo accettiamo per questa capacità di essere una sorpresa e il futuro non può che essere una bollicina ancora è una bollicina e lasciamo tutti scegliere la propria quella che amano di più ma la bollicina esprime questa appunto effervescenza che è tipica del futuro tutti dal futuro ci aspettiamo qualcosa di più effervescente il suo attore attrice preferita ah senza dubbio mary strip il miglior consiglio che si sente di darci eh il miglior consiglio è un po' la chiave di quello che ho detto prima non avere troppa fretta c'è sempre un passo giusto per fare le scelte più giuste aspettare anche un attimo in più io l'ho visto nella mia vita che aspettare un attimo in più aiuta io adesso direttore le devo fare una domanda un po' impertinente quanti calici di vino sono necessari per farla ubriacare eh non li ho mai contati esiste un rimedio invece per superare una sbornia il rimedio definitivo no non c'è non c'è tutti dicono bisogna bere tanta acqua qualcuno dice che bisogna alla fine bisogna prenderla per quello che è e lasciare che il fisico si riprenda e scontare che quel giorno lì sarà una giornata dura bene siamo quasi giunti al termine di questa di questa nostra chiacchierata e le chiedo se la nostra intervista le è piaciuta molto molto divertente molto intensa anche esprima un voto da 1 a 10 anzi no da 1 a 100 come nei punteggi delle guide di settore beh direi che un buon 98 lo diamo altissimo è stato sincero assolutamente sì allora prima di salutarci chiudiamo con un nostro gioco io le dico nome di un personaggio famoso lei mi dice il vino a cui lo abbinerebbe in realtà sfogliando i 50 anni il libro dei 50 anni ho visto una carrellata di celebrità personaggi che sono transitati ad esempio Sergio Mattarella certo la visita del Pesetta a Repubblica è stato un fatto straordinario e che vino gli abbinerei a Mattarella mi viene in mente un grillo di mozia un grillo di mozia e magari Mattarella in questo momento apprezzerebbe anche molto Papa Giovanni Paolo II questa è stata la visita più intensa e più emozionante che abbiamo avuto alla fiera di Verona è un ricordo straordinario personalmente straordinario è difficile associare una figura così grande ad un vino cioè mi viene in mente solo un grandissimo Barolo è un personaggio che abbiamo visto con una chitarra in mano e con l'altra anzi probabilmente non si può ma con un calice ed è Sting beh Sting associamolo ai vini che lui cura personalmente che stanno anche riscuotendo un certo successo sul mercato e soprattutto nei reti internazionali i suoi vini toscani i suoi rossi toscani direi che sono ben abbinati a lui a sua moglie che poi è un pezzo importante della storia vinicola della coppia io ho saputo che lei è un fan della Juve quindi Cristiano Ronaldo beh che io sia un fan della Juve non è tanto segreto quindi Cristiano Ronaldo ma Cristiano Ronaldo non possiamo possiamo forse abbinarlo a quei bianchi intensi e maturi e così anche carichi della forza del colore del mare che crescono e che emergono dalla costiera amalfitana bellissimo e chiudiamo con la sua attrice preferita Meryl Streep Meryl Streep assolutamente la binerei a un grande spumante italiano a un metodo classico millesimato direttore noi le ringraziamo moltissimo per il suo tempo e arrivederci grazie a voi mi avete dato un'occasione per riflettere su tante cose e riascolterò volentieri questo podcast fantastico a presto grazie grazie a voi segui Wine Soundtrack su Facebook Instagram e Twitter oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com www.winesoundtrack.com